Ancora un'aggressione violenta da parte di un detenuto nei confronti di un agente della polizia penitenziaria. È successo, come riferiscono Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del SAP, e Francesco Ciccone, segretario regionale nel carcere di Vibo Valencia. Un detenuto all'interno della sezione media sicurezza dell'istituto, secondo quanto riferiscono Durante Ciccone, nel corso dell'accesso nella saletta socialità che gli era stato precluso per motivi disciplinari, davanti al diniego posto dall'agente, ha reagito con violenza sferrandogli un pugno e colpendolo al volto. Sembra che il detenuto in questione, affermano i due esponenti del SAP, non sia nuovo a fatti di questo tipo. A Vibo Valencia si tratta dell'ennesima aggressione nei confronti del personale di polizia penitenziaria. La sezione all'interno della quale si è verificato l'evento è gestita nel turno pomeridiano da un solo agente a causa della carenza di organico che ormai riguarda tutti gli istituti d'Italia.